Emanuela Castoli, Emanuela Castoli Di fantasmi, di fantasmi Di fantasmi, chi è il fantasma? Chi è? No, non siete Ah, il fantasma è quello praticamente Che all'improvviso si scopre Che fa parte del gruppo Gruppi dei 5.000, 6.000, 7.000 persone All'improvviso lo che fa? Prende Come vede? Che vede? La bella donna! Una bella donna o bell'uomo Una bella donna che fa esce fuori Come se fosse stato nel gruppo Come se fosse stato nel gruppo Da l'anamita, come che scrive tutti Anche bell'uomo, anche bell'uomo Grazie di essere qui, ho letto Da uno, mai visto Devo spettacolo o lo faccio io? No, c'è stato l'unico Sta zitto Sta zitto Lo dico io Anche di contrario E' vero E' vero Ci sono anche delle donne Comunque Gli uomini sono in maggioranza Alza male che pensano che gli uomini sono in maggioranza Alzate la mano Alza bene I commenti 600 commenti Abbiamo visto 600 commenti 600 commenti Quella ragazza Quella La guarda robbiera del Magi Fly Fatto un macello 8000 commenti Di cui 7900 Erano persone che non abbiamo mai visto Sembrava come Veramente Che sta a prendere il gruppo Benvenuta cara Che c'è Detto ciò Inle massime è successo questo In linea di massimo Mo le faccio vedere È successo questo Allora Che è successo questo Lei che fa Prende La ragazza Si presenta Così Così Ma che non è lei Grazie So a fare la simulazione Fermi tutti Fermi tutti Ok La ragazza si presenta così di solito Vabbè Diciamo Un po' meno Però ieri era un po' meno Perché quella è precisa Però Si presentano anche così È vero o no Alzano le mani Quelli che pensano È vero Alzano le mani Tacci i vostri Mazzano queste mani Vabbè Ok Arriva il commento di lui Il primo È lui Ecco tu Aspetta Era questo Era questo Questo qua Venieri Che è successo davvero L'ha detto L'ha detto Fermi tutti Il primo fantasma È il fantasma Benvenuta nel gruppo È degli occhi di Cerbiatta L'ha detto Cerbiatta Chi l'ha visto Chi l'ha visto Chi l'ha visto Chi l'ha visto Il top però Che ha vinto Come ha detto No Fermi tutti Questo ha vinto proprio Questo è il fantasma Formacino Il fantasma Il fantasma Il fantasma invece Sottiletta 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 Manuela 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 Abbiamo Chi abbiamo Manuela Abbiamo L'ho visto L'ho visto Sto depravato Aspetta Oggi abbiamo qui Ve li presento Dove stanno Vieni qua Abbiamo qui Il fantasma Formacino Il fantasma Sottiletta L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Allora adesso Facciamo la domanda Scusa Si capisce Chi è Defici Senti, ma che cosa hai trovato in quella donna lì su? Che cos'è che ti ha folpito di quella foto? La sabbia! Poi? Il mare! Ma tu qui sei? Sono diletta o formacino? Io sono formacino! No, sono diletta, sono io! E poi che altro vengono colpito? Ah, sì, quello scoglio! Il ragazzo vengono scogliato! Mi sento in via dalla vista! Guarda il gabbiano, guarda il gabbiano! Vabbè, però, quel costumino nero, quelle rotondità, non le vedi? No! No! No, le buone da sei mare! Aspetta, dei due, a chi dovemo menacchiate? La banca, la banca! Dei due, a chi dovemo menacchiate? Chi ha detto le due? Ah, c'è piccolina, le due, a chi ha detto? Mamma, è stata proprio... Vabbè, ringraziamo a tutti, ringraziamo... Bravi! Bravi! Inizio e Mauro, se so prestati a sta cazzata! Però, però è vera, nella realtà, è vera, eh! A cipicchiolina, c'è stato! Occhi dice il piatto? C'è stato! Quindi sulle mani tutti, se c'è stato? C'è stato! Il tatuaggio? Gli piace il tatuaggio?